A tutti voi bentrovati a Qui Udine, il notiziario settimanale dedicato a quanto accade nel capoluogo friulano. Dovrebbero partire ad inizio estate per concludersi entro l'anno i lavori di restauro del castello di Udine, finanziati dalla Danieli di Butrio con 900 mila euro. Saranno riviste le facciate del castello, ma anche la scalinata d'accesso, la torretta e le parti in pietra. Sì, il castello di Udine sarà oggetto di un grande restauro, le facciate, quindi quattro lati del castello, con un intervento impegnativo. E qui dobbiamo ringraziare l'azienda Danieli e l'associazione degli industriali che ci danno una grossa mano, nel senso che sostengono loro i costi di questa operazione che non sono di poco conto, perché abbiamo preventivato circa 900 mila euro, una cifra impegnativa per tutti. E quindi grazie a questa sensibilità che non è di oggi, ma arriva da tanti interventi fatti dall'azienda Danieli, e ringrazio l'ingegner Benedetti per questa grande sensibilità, perché l'angelo del castello, il campanile del castello, in Piazza Libertà, gli interventi nella torre dell'orologio, la loggia di San Giovanni, sono tutti interventi già realizzati con contributi proprio della Danieli. Adesso completiamo questo lavoro importante con il castello, che è il simbolo principale della città di Udine. Speriamo di partire quanto prima con il cantiere, perché ci siamo dati l'obiettivo di chiudere i lavori entro questo 2019. Speriamo di farcela, che non vengano fuori delle sorprese, nel senso che i restauri sono sempre qualcosa di delicato e vanno fatti con grande attenzione. E dare una nuova immagine al nostro castello, perché sia visitato e ammirato dai tanti, in primis da cittadini di Udine e poi da coloro che vengono in questa città e possono salire sul collo e guardare con ammirazione il bellissimo castello di Udine. E in occasione della presentazione del progetto di restauro del castello di Udine, il presidente della Danieli, Gian Pietro Benedetti, ha espresso il desiderio che il castello diventi una sorta di piccolo louvre. Ingegner Benedetti, alle nostre spalle vediamo un angelo che risplende, e che è insomma il simbolo della città, è davvero bello. E insomma stride un po' con i colori della facciata del palazzo che abbiamo alle nostre spalle. Rattoppata? Rattoppata, una facciata rattoppata. E insomma la Danieli, che è sempre molto attenta al decoro della città di Udine, che già molto ha fatto per il capoluogo fiulano, non poteva accettare questa situazione. O comunque, simbolo di qua, simbolo di là, guardi come hanno piazzato quelle antenne. Perché avete deciso di scendere in campo anche per questo simbolo della città? No, per completare il panorama, perché quando dobbiamo bere il caffè nel bar dell'angolo, guardandoci in giro tutti quanti, e quando portiamo clienti a visitare, la dignità di un posto, anche se non appare, induce una considerazione sul globale. Quanto costa l'operazione? Mi dicono 900, cercheremo di diminuire, perché come vede c'è, a parte quei bussoloti, attaccati fuori, stile le vele, dove sono le vele, ma a parte questo c'è il sottofondo da rifare, perché mi spiegavano che quelle macchiacce nere non sono quelle del 1930, ma sono quelle del 1976 dopo terremoto. Il colore buono che si vede invece è quello del 1936, che è un indice di qualità di come facciamo i lavori pubblici. Bisognerebbe vedere quanto è stato pagato però. E' ancora un altro discorso. Detto questo, quindi bisogna rifare il sottofondo, rivedere, rimettere a posto i marmi, rimettere a posto le scale, rimettere a posto tutto quanto, la torretta. Quindi facciamo questo lavoro completo, mi sembra che il Comune metterà a posto l'esterno e poi proporremo anche di considerare se il Museo dell'Arte Materna a un lenti a basso può essere inserito qua, forse nel contesto potrebbe prendere più valore. E diventa, non dico come Louvre, ma una piccola copietta del Louvre. Approvato dalla Giunta Comunale di Udine, l'accordo con le guardie giurate per la sorveglianza dei punti più sensibili della città. Proseguiamo in quel positivo esperimento che abbiamo fatto tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019 attraverso il servizio di sicurezza fatto dalle guardie particolari giurate. Recepiamo oggi in Consiglio Comunale un importante finanziamento da parte della Regione di più di 150.000 euro destinati proprio alla città di Udine per continuare questo servizio. È stato un servizio che ha dato degli ottimi risultati, lo dimostra sia i cittadini che ci hanno ringraziato più volte per questo servizio, sia anche i dati che abbiamo a livello di Polizia Locale e anche quelli comunicati dalla Questura. Quindi è certamente un servizio importante che prosegue per tutto il 2019 nell'attesa di implementare l'organico della Polizia Locale. Proprio oggi è uscito il bando per l'assunzione dei nuovi operatori. Nel frattempo però abbiamo deciso di proseguire in questo servizio ovviamente attraverso la vigilanza privata. Il bando per i nuovi operatori di Polizia Locale che cosa prevede? Prevede delle prove fisiche, dei requisiti quindi attraverso delle prove fisiche perché è importante che i neoassunti siano in grado di stare sul territorio e di conoscere anche la città. Sono previste delle conoscenze a livello di toponomastica locale in modo che le persone che si rivolgono agli operatori di Polizia Locale possano trovare delle risposte, delle indicazioni. In questo modo proseguiamo nella nostra intenzione di avere più operatori possibili in strada al di fuori dell'ufficio e possibilmente anche persone giovani e preparate sia fisicamente che anche a livello di conoscenza delle vie e delle strade della nostra città. Udine è il capofila nel progetto europeo Urbat che prevede nell'ultima fase la valorizzazione del gioco per facilitare la socializzazione in tutte le fasce d'età. La cooperazione territoriale e lo sviluppo delle città verso la nuova politica di coesione europea è il tema di un incontro che organizzato a Udine dalla Regione in collaborazione con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e con il Comune ha puntato sul far emergere azioni e progetti innovativi capaci di orientare l'azione delle città con uno sguardo alle opportunità offerte dai programmi europei. A Udine nel Salone del Popolo di Palazzo d'Aronco è emerso quanto la collaborazione tra città e regione europea abbia favorito negli ultimi anni la definizione di approcci innovativi per lo sviluppo sostenibile e la crescita economica e sociale. Il convegno voleva avere un'ambizione un po' più ampia quello di fare il punto su questi ultimi anni di programmazione europea 14-20 e poi gettare le basi anche per la nuova programmazione 21-27 che si avverrà tra breve. Nell'occasione è stato presentato l'ultimo bando di Urbact che ha come scopo la creazione di reti transnazionali tra città che affronteranno sfide comuni. Udine è appunto la città capofila di un progetto europeo con altri sette partner e lo scopo è proprio quello di trasferire la buona pratica di Udine sul gioco a tutte le altre città d'Europa. Il gioco come vero e proprio facilitatore sociale quindi partendo da un'esperienza che all'inizio sembrava molto semplice come degli eventi sul gioco, la ludoteca, il ludobus si è arrivati proprio a utilizzare il gioco anche in contesti specifici. Intervenendo all'incontro, l'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti ha sottolineato che la regione ha cambiato passo nella governance del territorio ridando ai comuni il ruolo di protagonisti un obiettivo che sarà concretizzato con la riforma degli enti locali nella quale saranno previsti strumenti adeguati per mettere i sindaci nelle condizioni di governare le proprie comunità e muoversi con efficienza nell'utilizzo delle risorse. La Costituzione è di tutti e non sarà mai in pericolo se sarà condivisa con tutti gli italiani lo ha detto il Vice Presidente della Corte Costituzionale Aldo Carosi incontrando gli studenti dello Stringer di Udine la scuola è tra le 37 scelte dal Ministero per il progetto Viaggio in Italia, la Corte Costituzionale nelle scuole. Come si spiega la Costituzione alle nuove generazioni? Innanzitutto si deve spiegare con parole comprensibili ma più che le parole perché poi i giovani studiano bisogna fare capire il senso di quelle parole e come si collegano e in che periodo sono nate e dopo quali drammatiche esperienze allora la vedono in un'altra ottica. Senta ma la Costituzione è mai stata in pericolo? Ma la Costituzione diciamo la nostra non è mai stata in pericolo dopo il dopoguerra certo una cosa che io dico sempre ai giovani è che per vivere la nostra Costituzione che è bellissima ha bisogno di essere condivisa dalle persone a cui è destinata il vero pericolo è quando c'è un distacco nella percezione dell'uomo comune della Costituzione perché la Costituzione è di tutti non è dei giudici della Corte Costituzionale e non è delle istituzioni che contano ma di tutti i cittadini. Senta la giustizia? Come la spiega ai giovani? La giustizia è un po' figlia della società in cui ci troviamo certamente è perfettibile nel nostro paese se alludiamo al funzionamento della giustizia in Italia ma anche in questo caso possiamo dire che la Costituzione evita che alcune leggi o alcune interpretazioni poi si pongano contro i valori che sono stati riconosciuti. L'ultima domanda ma la legge è veramente uguale per tutti? Dovrebbe essere uguale per tutti sicuramente lo è sotto il profilo formale cioè delle garanzie il nostro Stato per fortuna le consente a tutti e dal punto di vista dell'eguaglianza sostanziale quello che dice la Costituzione è che bisogna abbattere le diseguaglianze e portare avanti la solidarietà sociale. Siamo pronti alla morte l'Italia Udine più pulita grazie ad un accordo tra Comune e Legambiente che prevede numerose iniziative saranno coinvolti anche gli studenti delle scuole. Oggi la Giunta ha autorizzato il Sindaco a firmare un protocollo d'intesa con Legambiente per tutta una serie di iniziative che vanno dalla giornata dedicata proprio all'ambiente a dei seminari per parlare di tante tematiche che sono legate a un corretto comportamento sia dei cittadini che anche della pubblica amministrazione per quanto riguarda la tutela dei nostri territori. Parleremo anche di raccolta differenziata spinta e su questo sapete che è una mia cavallo di battaglia spero che Legambiente, anzi sono certo che mi darà una mano nel portare avanti in pratica questa innovazione per un recupero dei rifiuti per una raccolta migliore e anche per un risparmio che vogliamo fare nei confronti dei cittadini virtuosi. Noi ci fermiamo qui vi rinnovo l'appuntamento con Qui Udine per la prossima settimana. Arrivederci! Grazie a tutti!